Musica Bella ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio su Madden 22 ragazzi su PS5 Non vedo l'ora di farvi vedere come continua la carriera del nostro giocatore Ma ragazzi ho visto tantissimi commenti su Ale continua, Ale continua Ragazzi Madden, MLB e tutti gli altri sport che non sono magari FIFA o NBA 2K Non so quanto li posso portare avanti perché ci sono progetti appunto come NBA e FIFA molto più grandi E quindi devo cercare anche sì di farvi conoscere i giochi, di farveli vedere Ma non riesco a capire adesso quanto potrà durare una serie E quindi potrei fare anche quante stagioni si possono fare Quante volte voi volete vedere una stagione uguale, lo stesso anno, ogni anno uguale Capite quello che voglio dire, no? Quindi bisogna anche cercare di dosare un pochino i vari giochi e le varie forze Quindi non vi so dire effettivamente quanto durerà questa carriera Cercheremo comunque di entrare in NFL e di fare un po' di partite in NFL Questo è poco ma sicuro Però continuiamo con Face of the Franchise Ah, ripartiamo subito Ok Ragazzi, anche questa cosa qui delle musiche è abbastanza tosta Perché? Mentre mi metto le cuffie Perché le musiche sono collegate ai loro dialoghi Quindi io non posso togliere la musica e lasciare la loro voce Se devo togliere, devo togliere tutto E questo è un grosso problema Io direi comunque per la seconda volta di migliorare fisicamente E se si può ancora in velocità Voglio assolutamente cercare di essere uno dei wide receiver più veloci della Lega sin da subito E quindi abbiamo appena avuto con il più 5 precedente e il più 5 di adesso Un totale di più 10 Oppure è soltanto per questo Road to the draft come leggiamo Quindi non è in generale È solo per questa situazione Peccato, peccato Però sì Preferisco essere più veloce in questo momento Abbiamo scoperto che lei è una giovane scout E che ha soltanto il nostro giocatore Quindi praticamente noi siamo il suo unico cliente Ecco l'ho Il 19 gli hanno dato Eccolo qua Prontissimo Con la maglia dei Gators Attenzione però, credo che siamo già nella fase Finale Oh oh, semi-finals signori Semi-finals Primo quarto E andiamo Oh 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 Botta di sederone Botta di sederone per Presley Wow Wow E si parte così Qua devo stare attento Non devo sbagliare Bam Ah È buono È buono, dai È buono, buono Perfetto E dai 7-0 Abbiamo appena iniziato Un po' corti i quarti da 3 minuti Però ci può stare Intanto qua Ottima difesa Attenzione Via Sì bellissima Bellissima Terzo e 12 Ragazzi Terzo e 12 Vi ricordo che il gioco funziona Che voi dovete fare 10 yard in 4 tentativi Ogni volta che superate le 10 yard ripartite dal primo tentativo E piano piano vi avvicinate sempre di più alla meta Ve lo spiego sempre terra a terra eh Attenzione loro ne devono fare 12 Oh non riesco a liberarmi Ok ce l'ho fatta No peccato Prendile al volo frate No Mamma mia se la pigliava Vedete quarto tentativo e 12 Ora loro tenteranno il punt Che è un calcio Per allontanare il più possibile la palla Potrebbero fare un ultimo tentativo in realtà Però è molto rischioso Capite Devono allontanare in modo che noi ripartiamo Dal punto più lontano possibile Ed eccoci qua Oh eh Ci sta Ci sta ragazzi Forse ora attacchiamo E useremo il nostro player Vediamo un po' Portate Miracle Ha la traccia completamente dritta ragazzi Me la sto rischiando di brutto Non chiedetemi nulla Non chiedetemi nulla Perché ho la stato rischiato Disintegrati Terzo e 10 Meno male che ho lanciato prima ragazzi Disintegrato Ora bisogna guadagnare per forza Ora bisogna guadagnare per forza ragazzi Purtroppo siamo fregati O Miller O Miracle Sembrerebbe Miller Il migliore Vediamo un po' Oh Niente ragazzi Quarto e 10 La merda E invece io ci provo lo stesso Ce la rischiamo ragazzi Quarto e 10 Silenzio E il quarto e 10 Me la sono rischiata così Dopo due errori Ancora Miracle Purtroppo non ha fatto nulla Ma adesso ha un'opportunità d'oro Di fare bene Miracle Eccolo Il wide receiver Dei Florida Gators Field goal E 14-0 E via che ce ne andiamo Partita per ora Completamente a senso unico Torniamo in attacco ragazzi Brutto Attacco Da parte di Clemson Intanto Miracle ancora Attenzione Voilà Porca miseria Deve Ovviamente affinare l'agilità Ma eccolo qui Eccolo qui Wow Wow Altra action Molto rischiosa Miracle taglia tutto il campo Ed è sua Ed è sua Voilà Wow Wow Che partenza Per il wide receiver Dei Gators È caldo e lo sfruttiamo È caldo e lo sfruttiamo Ma anche Perkins È in buona situazione Vediamo se Miracle Non si smarca Andiamo su Perkins Vai Ah Oh cavolo Sì Come Ma che cosa Kick off E ripartono loro Ci vediamo poi Nell'attacco ragazzi In ginocchia In modo a ripartire Senza problemi Ragazzi Purtroppo Non funziona Dobbiamo andare così E niente Quarto E 16 Questa me la voglio vedere Ragazzi Questa me la voglio vedere Ancora il quarto tentativo Lo so Non dovevo farlo Ma ormai 21 a 0 Chi se ne frega Ho provato un quarto tentativo De vasto E ce l'abbiamo fatta Ancora primo tentativo E 10 Siamo al college Non ce ne fotte niente Del quarto tentativo Al 21 a 0 Eh Penalty Perché? Perché ci ho messo troppo A scegliere lo schema Ora loro accetteranno Quindi passerà Al posto da 1 e 10 A 1 e 15 Quindi occhio sempre Al cronometro Ragazzi Occhio sempre al cronometro E andiamo Con la grinta giusta Vediamo un po' Cosa riusciamo a fare In questo momento Vado io Si sa mai E infatti La cagata Secondo e 15 Ragazzi Guardate che traccia Deve fare Miracle Se riesce a passare Da lì È clamoroso Dai Miracle Dai che ci crediamo Vai bello Oh porca miseria No Sono troppo Troppo alterato Dall'ultima chance Ragazzi Si poteva fare Veramente di più Attenzione Un'altra possibilità Tieni i piedi dentro Bello Gli ha tenuti dentro Miracle Tieni i piedi dentro Al momento del catch Al momento della presa Aveva i piedi dentro Bam Qua bisogna fare la giocata Ragazzi Me lo sento Qua bisogna fare la giocata E infatti È fatto la cagata Bisogna fare la giocata E infatti è fatto la cagata Qua devo avere la pazienza Di portare a casa Un risultato Secondo e 10 Ultimi tentativi Ormai partita Praticamente finita Bam Vai Oh Ma cosa ti ho dato Frate Cosa ti ho dato 27 Probabili 28 Ma cosa gli ho dato Lì Finta di fare da solo Di correre col Quarterback E poi invece La piazzata 28 Zero ragazzi Clemson Disintegrato Bam Ragazzi Però posso dire Protagonista Miracle Posso dirlo Posso dirlo Comunque come wide receiver Ha preso veramente Un paio di Di situazioni importanti Adesso Credo che comunque Quando andremo a giocare Nell'NFL Potrò comandare Solo lui Qua credo che mi facciano Comandare l'intera squadra Ma in NFL Mi sa proprio di no Flexalo Wow Finita qui ragazzi Finita qui Ragazzi Distrutta Clemson 28 Zero Ma soprattutto Si va In finale Da quello che ho capito Siamo già Praticamente siamo Nelle ultime due partite Quindi ci sarà Probabilmente questa E un'altra Ma Guardate qua Draft stock Trending up Ragazzi Grande partita Di Miracle Che partita Ha tirato fuori Ragazzo Veramente Ha fatto una Grandissima partita E guardate qua Catch in traffic Più 10 Juke moves Più 10 Special catch Più 10 For the college Championship Per la finalissima Avremo questi boost Wow Wow Yeah Oh Yeah Oh Yeah Oh Yeah Oh Yeah Oh Grazie a tutti.